ciao amici sono l'ox bentornati sui fatti le opinioni di lox il canale per i veri malati di sport giro d'italia seconda tappa dopo la partenza di ieri scoppiettante con la cronometro di torino la prima maglia rosa indossata da filippo ganna oggi avevamo la prima tappa in linea seconda tappa complessiva del giro ci si spostava sempre all'interno del piemonte da stupinigi l'arrivo era a novara tappa pianeggiante volata prevista volata è stata volata eccezionale molto divertente una tappa nel complesso piacevolissima conclusa con questa volata eccezionale vinta da tim merlie il belga della alpecin ha stradominato la volata una volata però molto in porre positiva per i colori italiani perché nei primi dieci ci sono stati cinque alfieri del ciclismo italiano secondo posto per nizzolo che per la decima volta la sua carriera è arrivato secondo in una tappa del giro d'italia terzo posto molto convincente e molto corroborante per il via viviani poi un quarto posto ancora un risultato molto importante in questo caso perché dylan groenwegen che torna al ciclismo dopo torna correre dopo la squalifica che prese lo scorso anno per l'incidente con fabio jacobsen nel giro di polonia un bel quarto posto per lui solo quinto petersaga vola come detto due momenti da ricordare di questa bellissima tappa prima il traguardo volante una ventina di chilometri dal traguardo dove evenpola cercato una bella imboscata per andare a recuperare qualche secondo da buono ma il team in eos non si è fatto sorprendere è stato bellissimo vedere questa volata tra corridori del team in eos e corridori del decennic per andare a prendere questi secondi da buono filippo ganna ha vinto questa volata e si è preso anche dei secondi da buono quindi molto bene non solo ha tenuto la maglia ma è riuscito ad allungare ulteriormente bella questa lotta il voto in pagella per i due ragazzi oggi è un bel 9 perché sono stati sia per ganna sia per evene poi perché hanno dato anche questo tocco in più dopodiché gli ultimi 20 chilometri molto interessanti molto combattuti andati a 60 65 chilometri all'ora lotta davanti per cercare di prendere la posizione migliore e nonostante ci fossero anche ogni tanto delle curve piuttosto pericolose però non è successo niente di particolare per fortuna ci si è arrivati quindi a ranghi compatte disputare lo sprint sprint che aveva una particolarità prima una s nell'ultimo chilometro pericolosissima nella quale per fortuna non è successo niente ma che ha contribuito a allargare ancora di più un po il gruppo e poi un rettilineo nel quale l'ultima curva era un centinaio di metri dal traguardo per cui i corridori non vedevano lo strisciore del traguardo ha vinto merlie che ha fatto una volata lunga di forza di prepotenza il team arpesin l'ha portato nella posizione giusta lui è stato straordinario a dominare questo sprint dall'inizio alla fine molto bravo comunque per lui il voto in pagina le 10 molto bravo inizio lo voto 9 perché si è fatto trovare pronto come sempre alla preparazione della sua squadra è stata un po fin da troppo da troppo prima quindi a magari hanno sprecato un po troppo energie però lui è stato bravo a corso una buona volata voto 9 voto 8 per viviani che mi è piaciuto oggi è un po il suo rientro alle corse anche per lui a un livello così importante ha fatto una bella volata mi è piaciuto 8 anche per groneweger che ha corso bene nel finale pensavo a forse lasciato un po gli ultimi metri ma si è trovato comunque al posto giusto nel momento giusto ha fatto un buon quarto posto delusione della volata invece a mio avviso sono state un po peter sagan che è rimasto un po imbottigliato questo quinto posto può essere un po deludente anche se questi ragazzi nuovi giovani rampanti sono veramente scattanti e pericolosi per il campione slovacco e un po cale bevan anche per lui voto 5 un decimo posto un po deludente non ha fatto sostanzialmente la volata perché si è trovato nelle prime posizioni ma troppo staccato dopo l'ultima curva e poi la grande delusione della giornata perché tutto è nato storto è per fernando gaviria per lui voto e 5 perché è lanciata la volata molano la praticamente il compagno l'ha praticamente stretto contro le transenne gaviria ha fatto un acrobazia si è appoggiato la transenne riuscito comunque a non cadere ma si è visto la volata completamente rovinate quindi lui che ieri tra l'altro ha fatto una buonissima cronometro oggi non è riuscito a trovare un piazzamento di rilievo quindi tappa molto molto interessante che lascia tantissimi ancora temi di interesse per questo bellissimo giro l'italia che domani nella terza tappa avrà ancora un giro in piemonte una tappa piemontese si parte da biella si arriva a canale e l'arrivo è ondulato può essere ancora una tappa per velocisti ma se la prima parte completamente piana invece la seconda parte della tappa è un po di sali scendi piuttosto interessanti tra i gran primi della montagna di terza categoria un finale un pochino vallonato l'ultimo chilometro anche in leggera salita per cui anche domani potremmo vedere una volata ma una volta magari un po più di potenza magari un pochino meno adatta ai velocisti proprio puri però vedremo domani questa tappa molto interessanti in classifica ganna resta maglia gialla allunga secondo posto rimane comunque a fini a 13 secondi di ritardo terzo fossa 16 e bene poi si porta al quarto posto affiancando al mei da 20 secondi di ritardo primo ritirato di questa edizione neilans il lettone ieri molto sfortunato perché rientrando in albergo dopo la cronometro è caduto si è rotta la clavicola dovrà essere operato e quindi purtroppo è stato il primo corridore a doversi ritirare ultimo della classifica in questo momento il belga serri della de senica 3 e 28 di ritardo ragazzi ci vediamo domani giro d'italia veramente bello veramente interessante spettacolare come sempre domani terza tappa appuntamento quindi tutti per tutti voi iscrivetevi al canale vi aspetto like se vi piace il video campanella per essere avvisati dei prossimi contenuti un bacio a domani ciao ragazzi